E' morto ieri all'età di 87 anni Giuseppe Giacovazzo, giornalista, politico e scrittore. Era da qualche mese ricoverato nell'ospedale di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, per una grave malattia. Nato il 6 settembre 1925 all'Occorotondo, è stato eletto in Parlamento nel 1987, riconfermato nelle due successive legislature nelle fila della democrazia cristiana. E' stato sottosegretario di Stato per gli affari esteri nel primo governo di Giuliano Amato e nel governo di Carlo Azzeglio Ciampi e ha fatto parte di numerose commissioni parlamentari. Nella sua carriera giornalistica è stato prima al Tg1 e poi direttore della Gazzetta del Mezzogiorno negli anni Ottanta. E' stato anche presidente del Core con Puglia. Ha scritto diversi libri, fra i quali Puglia, il suo cuore, cento piccole storie raccontate nei paesi, dal Gargano al Capodileuca, alla scoperta di un cuore d'ombra, indocile e geloso, quel cuore segreto di quella Puglia che ha tanto amato e ha descritto come un romanzo. Il suo ultimo lavoro è stato il libro Elogio del Trullo, una sorta di canto alla sua terra. Con Giuseppe Giacovazzo, ha detto il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, scompare una certa idea, caro ad Aldo Moro, di un meridione dialogante, che rifiuta i facili vittimismi, mai rassegnato, piagnone e demagogico, ma sempre pronto a misurarsi sulle sfide più importanti del futuro. Grazie a tutti.